Da mercoledì 31 maggio la ex strada statale 3 Flaminia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza di Acqualagna, nello specifico il tratto interessato va dallo svincolo Acqualagna ad Acqualagna-Tarugo. La chiusura è dovuta ad alcuni controlli tecnici approfonditi sullo stato di salute dei viadotti Candigliano e Burano. Il traffico in questi giorni e fino al termine delle verifiche è stato deviato sulla vecchia Flaminia che attraversa il centro abitato della città del Tartufo, con non pochi problemi di densità di traffico, soprattutto nella giornata di domenica dove si sono registrati in momenti diversi lunghi incolonamenti sia la mattina che fino a tarda sera. Infatti i vigili urbani di Acqualagna hanno avuto un surplus di lavoro per gestire la mole di traffico che prima dall'interno verso il mare e poi dal mare a rientrare nell'entroterra e verso Gubbio ha utilizzato l'arteria della Flaminia. Anche stamane il cantiere era operativo per il completamento delle verifiche tecniche necessarie.